calmo lì eh stai sul verde, bravo tranquillo la nero della coloranzia sicuro che il tecnico nel livello non arriva figurati e non c'era nient'altro ok l'ho aperta quella scorciatoia, vero? vero che l'ho aperta non mi ricordo sì, ok vabbè allora dovevo ancora chiamare per fissare l'appuntamento perché non si è ancora attivato il boss vieni qua vieni qua così non si attiva bravo si attiva adesso quanto devo andare lì vicino? quanto lag? che palle? sì non sì non sì vieni qua